Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale Stilograficamente, il canale dove la mente si rivolge al bello. Oggi è arrivato il momento della prova di scrittura della Pinaider Avatar Twin Tank Touchdown nella sua versione Clear. Ci eravamo lasciati con la promessa di testare adeguatamente questo strumento di scrittura. Abbiamo visto l'unboxing, abbiamo visto l'esame delle parti della penna, non fatto benissimo per la parte del fondello perché ne parliamo oggi assolutamente. Tutto quello che dirò è presente in questo opuscoletto che è qui davanti a me. Il presupposto di questo test di scrittura, fra virgolette, complesso viene proprio dalle asserzioni che sono fatte qui. Per cui vi troverete guidati nell'acquisto di questo strumento se vi prenderete il tempo di leggere quel opuscoletto. Mi sono dotato di una tazzina di caffè perché comunque è una sessione di scrittura lunga e anche di un libro molto leggero che si può utilizzare per le letture della sera, per andare a dormire o per compiere il delitto perfetto con un corpo contundente, visto che il peso è decisamente importante. Allora, perché prova complessa? Allora, il nome di questa penna è Twin Tank Touchdown. Perché? 3T, Twin Tank, due tanniche, cioè l'anticamera dell'inchiostro che dalla sezione arriva fin qui, fondamentalmente, possiamo definirla così perché la sezione si riempie chiaramente l'inchiostro fino all'alimentatore, ma questa è una prima anticamera e la camera vera e propria di riserva massima dell'inchiostro. A separare le due c'è una valvola di chiusura. La valvola di chiusura si sblocca con il fondello. Il fondello, non so se riesco a farvelo vedere, ha serigrafato l'iconcina di un lucchetto, sbloccato, loccato. Se io faccio una rotazione di un quarto di giro, un meccanismo, una molla interna, lo fa emergere e in questo modo l'anticamera è sbloccata. Quindi, qualora io faccio accedere l'inchiostro qui, praticamente sto facendo liberare parte della riserva per l'anticamera. L'inchiostro non scende di per sé, da cui il touchdown. Quindi, si danno due o tre colpetti, senza insistere perché non è necessario. L'importante è che si crei un primo canale tra la camera e l'anticamera. In questo modo l'inchiostro sta iniziando a fluire. Questa, in modalità long writing, cosiddetta, è la modalità in cui avete sbloccato il fondello, avete dato tre colpetti per far scendere l'inchiostro se non c'era questo canale unico tra l'anticamera e la camera e quindi siete preparati per una lunga sessione di scrittura. La long writing fondamentalmente vi dà, dice l'opuscoletto, non mi ricordo se 4 o 5 cartucce, ora ve lo confermo perché non vorrei dire castronerie, però fondamentalmente long writing sì, 5 o 6 cartucce, però chiaramente non con questo tipo di riserva d'inchiostro, cioè io l'ho usata lungamente. Se la riempite per la capienza massima o quasi, più o meno raggiungete la capienza di 5 o 6 cartucce. E questa è la long writing, cioè continuate a scrivere finché non finite. Chiaramente la long writing session può diventare short writing session se vi preoccupate di chiudere il fondello. Lo richiudete e quindi andrete a esaurire questa carica, quindi dall'alimentatore, perché si suppone che l'inchiostro sia arrivato in punta tenendolo in questo modo, fino alla anticamera, fino alla fine dell'anticamera dove c'è la valvola di chiusura. Questa è la short writing session e il manualetto sostiene che avete la possibilità in short writing di scrivere alcune pagine. Alcune pagine però di che formato non lo specifica. Ora, noi qui abbiamo la 5, lo stesso che ho usato per la recensione, la prima prova di scrittura della penna, però non abbiamo contezza di quanto, quante pagine possiate andare a coprire. Ora, vi salto la prefazione e l'introduzione del corpus hermeticum, perché già di suo è bello corposo, si chiama corpus apposta, e andiamo direttamente al pimandro. Andiamo al pimandro. Ok, va bene. Quindi cominciamo a scrivere e vediamo quanto tempo occorre per l'esaurimento della short writing session, quindi della capienza d'inchiostro che abbiamo raggiunto dando tre colpetti, il massimo che l'opuscoletto consiglia, perché dice non c'è bisogno di insistere, non è necessario. Benissimo, noi ci fidiamo e cominciamo a scrivere. A questo punto faccio un filmato unico andando avanti. Allora, c'è incertezza, c'è incertezza, probabilmente si è seccato l'inchiostro in punta, la penna non la usavo da un po', in questi casi cosa faccio? Riapro, forse la prima prova non andava bene, concediamole una chance. Quindi diamo tutti i colpetti che servono, questa volta più di tre a questo punto e richiediamo. non la usavo da un po' di tre a questo punto. non la usavo da un po' di tre. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, allora, finalmente, dopo circa 37 minuti di sessione di scrittura alla faccia, dove ho scritto in maniera piuttosto continuativa una, due, tre, quasi quattro pagine, beh, quattro pagine con questo trafiletto qui, poi il pennino ha iniziato ad andare in secchezza. Quindi effettivamente alcune pagine riuscite a scriverle. Formato A5, io ne ho scritte 4. E lasciatemi dire, non dovete fare altro se volete proseguire che o lasciare aperto per non avere questo blocco mai finché non si va a esaurire tutta l'intera carica, oppure aprire, dare un altro colpetto di touchdown, perché fate proprio touchdown con il dito sul fondello, e riuscirete ad avere, dopo averlo chiuso, un'altra short writing. In questo momento, come vedete, l'inchiostro si è andato ad esaurire sulla anticamera dell'inchiostro, la prima camera, insomma, la prima riserva, per cui l'abbiamo esaurito qui, l'abbiamo esaurito nella sezione e nell'alimentatore, ed è per questo che è andato in secchezza. Ma per far questo ci sono volute ben 4 pagine di scrittura, pressoché continuativa, insomma, qualche volta mi avrete visto inserire il cappuccio, prendere un attimo di pausa, perché una sessione di scrittura veritiera, che dir si voglia, insomma, ha delle sue pause, almeno per bermi il caffè e poter proseguire. Una cosa che ho notato, beh, qui è andato proprio in esaurimento, una cosa che ho notato è che nel momento in cui io applicavo il cappuccio e poi lo toglievo, c'era una sorta di moto di risucchio che faceva affluire più copiosamente l'inchiostro, cioè la tinta era leggermente più intensa, e questo è positivo qualora facciate delle pause, per cui riparte subito, senza incertezza, e riparte bello umido come tratto. È un inchiostro turchese Visconti, usato per il test, la carta è Rodia puntinata, devo dire che il test per me, per la short writing, è superato, per la long writing è la stessa cosa fondamentalmente, l'ho già verificato io in una settimana, se voi lasciate, non avevo fatto il test di short writing, questa è la prima volta che lo faccio con voi, almeno non consapevolmente, e durante la settimana io di solito tengo il fondello aperto, perché non voglio limiti, poi mettiamo il caso che io lo tenga aperto, abbia fatto il touchdown, quindi si è sceso, l'inchiostro, vedete, deve scendere, deve crearsi un canale continuo, se non scende dovete continuare a fare touchdown, quindi su questo mi sento di contraddire leggermente le istruzioni che dicono, bah, date due, tre colpi, non serve fare altro, no, dovete accertarvi che l'inchiostro scenda, magari mettendola più in verticale di come stavo facendo io, però l'inchiostro deve scendere, se non scende non si crea quella compattezza di molecole che dà la continuità di flusso, perché una volta sceso si crea questo canale e l'adesione che c'è tra le molecole, la forza di adesione che ci sono tra le molecole dell'inchiostro fanno sì che continui a scendere durante la sessione di long writing. Qualora mi accorgessi che devo prendere un aereo di colpo o che non devo scrivere più, basterà capovolgere la penna, vedete, era già sceso, poi dipende dalla fluidità del vostro inchiostro, in questo caso è abbastanza liquido gli sconti turchese, per cui scende subito, altrimenti date alcuni colpetti di incoraggiamento e l'inchiostro scenderà. Direi che è una penna sicuramente, infatti si chiama traveler, pensata per gli spostamenti, l'ultra resin, anche se, come vi ho detto nello scorso video di recensione delle parti della penna, è una resina fatta di un composito di madreperla, quindi l'involucro delle ostriche è resina, per cui comunque uno sfruttamento del regno animale, fondamentalmente, in questo caso molluschi, ma tutto quello che volete, mitili forse, non lo so, però il lia di massima, ecco, io non so come vengano ricavate queste bucce di ostrica, presumo che non vadano a raccogliere quelle abbandonate dal mollusco, per cui, sinceramente, o quelle rimaste dal banchetto dei pesci, quindi in questo senso non me la sento di essere proprio serenissimo, però, facendo un passo indietro dal punto di vista ingegneristico, ed è per questo che le ho dedicato tutto questo spazio, è una penna che denota l'evoluzione del genio di Dante del Vecchio, perché fondamentalmente lui è passato, allora, in Visconti lui aveva fatto la Homo Sapiens, la Bronze Age, ed era un vacuum filler semplice, poi aveva fatto la Florentine Hills, che abbiamo visto su questo canale, quindi se non avete visto la recensione andatevela a vedere, che aveva la doppia camera. Questo è il terzo step, cioè doppia camera, ma anche un meccanismo di touchdown, che vi permette sia di stabilire quando fare una long writing, una short writing, e di incoraggiare fare il cosiddetto priming dell'alimentatore. Gli stranieri lo chiamano priming, quando fondamentalmente, di solito si fa con la penna a cartucce, la penna a cartucce si dà qualche mandata in maniera tale da far discendere l'inchiostro nell'alimentatore e renderlo bello pregno quando sta andando in secchezza. Nel nostro caso abbiamo una vacuum filler che ha questa possibilità, quindi complimenti Dante del Vecchio, anche questa volta, secondo me, ci hai stupito con un sistema di caricamento, a mio avviso nuovo, non lo definirei una semplice silinga rovesciata, perché la silinga rovesciata non necessariamente ha una valvola di chiusura, alcune ce l'hanno, altre no. La Visconti Homo Sapiens Lava Bronze Age, che diciamo propriamente, come brevetto Visconti, si chiamava Power Filler, non aveva la valvola di chiusura. Quindi comunque il fondello, anche chiuso, non ostruiva il passaggio dell'inchiostro. Per cui, tenete a mente di tutte queste cose, se la penna dovesse interessarvi, io vi lascio, diciamo, con una conclusione sugli aspetti che ho notato di questa penna, positivi e meno positivi. Allora, sicuramente molto bello l'accesso pieno a tutte le parti che compongono la penna, quindi il fatto che ci sia un perno per sostanzialmente tener ferma il meccanismo della clip, che si muove con l'aiuto di una molla, torna in posizione, per cui presumo che ci sia una sporgenza qui che schiaccia la molla quando allargo la clip e la molla, per sua memoria, torna indietro e fa tornare la clip al suo posto. Quindi molto bello che io possa capire qual è il meccanismo che c'è sotto, perché è completamente clear. L'ultra resin ha di suo, che in questa veste perlomeno, è decisamente demonstrator, non lascia nulla all'immaginazione, non c'è niente di fumè e anche da un punto di vista, come posso dire, di scorrevolezza dell'inchiostro sulle pareti interne, io non sono riuscito a macchiare questo cappuccio in nessun modo. Vuoi perché comunque c'è il meccanismo di isolamento della seconda camera, quindi magari dando qualche colpetto riuscirei a macchiarlo. Adesso non mi va sinceramente di starlo lì a pulire, però gli aspetti positivi, sicuramente un'alta capienza d'inchiostro, sicuramente una prestanza dal punto di vista della scrittura, delle sessioni di scrittura, anche la short abbiamo visto dura un bel po', quindi se fate un viaggio in aereo, 37 minuti ve li fate tutti di scrittura, con le vostre dovute pause. Poi volete continuare perché avete un viaggio lungo, state attraversando continenti, allora è un discorso diverso, quindi fate il touchdown, prima o poi dormirete anche voi, se dovesse cascarvi la penna perché vi addormentate, questa è fatta di ultra resin, l'unica cosa il pennino è in acciaio, non è indistruttibile, quindi cercate nel dormiveglia di metterci il cappuccio, così se dovesse cascarvi la penna, perlomeno non la spaccate, nella speranza che nessuno ve la faccia sparire, perché comunque parliamo di un esemplare che oltrepassa le 200 euro, per cui un esemplare non di fascia bassa sicuramente, ha il suo costo, però da un punto di vista ingegneristico, sinceramente è importante, è imponente, il lavoro che c'è dietro è interessante, spero e prego il dottor Dante del Vecchio, sinceramente a Donoris Causa, non mi sento di chiamarlo diversamente, di trovare un materiale un po' più eco-friendly, come aveva fatto con la lava basaltica, qualcosa di simile, ci è riuscito con la Alchemist, perché comunque sia, era sempre sul mondo minerale, quindi era una penna, l'abbiamo vista anche quella, su questo canale, molto robusta, sull'ultra resin abbiamo fatto, secondo me, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, un passo indietro, ma dal punto di vista ingegneristico, ripeto, assolutamente passo avanti. Bene, vi ringrazio per avermi seguito fin qui, ringrazio gli amici di Itapec per avermi prestato, vi ringrazio ancora una volta per avermi prestato questo esemplare, a questo punto lungamente, perché ho dovuto testarlo veramente ben più di una settimana, oltre che qui con voi, e ringrazio per la vostra pazienza, e per la vostra dedizione al canale. Grazie a tutti, e al prossimo video, stilo graficamente parlando. Ciao!